Non c'è pace per l'ex consorzio agrario in via Montefanese ad Osimo. Per l'area, da anni in attesa della riqualificazione, sono scattati i sigilli posti dai carabinieri su ordine della procura. Stop dunque ai lavori per la costruzione di un centro commerciale avviati dalla ditta Simonetti. Sull'ex consorzio c'era già pendente un contenzioso altar ed esposti penali avviati da due supermercati, ma a far scattare il sequestro sarebbe stato l'esposto presentato dall'azienda concorrente rimasta fuori al momento dell'appalto. Non ci sarebbero indagati, si tratta piuttosto di un sequestro preventivo per preservare i reperti archeologici scoperti durante i lavori, emersa una parte dell'antica Auximum, resti del periodo romano-gotico compresa una basilica. Le indagini dei carabinieri si concentrano sull'itera autorizzativo, con una prima ricognizione dei documenti per escludere eventuali abusi. Il sindaco di Osimo, Stefano Simoncini, esprime tutta la sua fiducia sul corretto operato degli uffici comunali competenti e fa sapere che continuerà a mettere a disposizione della magistratura la struttura comunale per qualsiasi tipo di chiarimento.